Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Oggi parleremo di un filato davvero speciale che nasce per essere abbinato ad altri filati, per renderli più preziosi, più luminosi e brillanti. Si tratta del Pazzi Naked, scopriamolo insieme! Eccolo qui il nostro Pazzi Naked, un filato micro paillette in rocca composto al 100% da poliestere. Il peso è di 100 grammi per una lunghezza di 780 metri. Vi consigliamo l'utilizzo dei ferri dal 3 al 5 e gli uncinetti dal 2,5 al 4. Questo filato è studiato per essere d'abbinamento ad altri filati ed ha una resa davvero lunghissima. Come potrete notare le paillettes sono davvero micro. Questo darà un tocco di lucentezza davvero fine ai vostri capi. Per quanto riguarda il lavaggio, le micro paillettes non subiranno nessun danno anche lavandole in lavatrice. Vi consigliamo comunque di utilizzare un lavaggio per delicati, mentre come regola base varrà il consiglio riportato sull'etichetta del filato principale a cui andrete ad abbinare il Pazzi Naked. Scopriamo ora tutte le colorazioni disponibili. Partiamo dalle colorazioni che presentano una paillette in contrasto, che in questo caso è argento. Qui abbiamo il colore avio, candido e blu. Ancora delle paillettes a contrasto per la colorazione antracite, bordeaux e nero. Qui come potete vedere spiccano molto le paillettes argentate, che creano un vero contrasto con il filato di fondo. Passiamo ora invece alle tonalità che presentano una paillette tono su tono. Il verde, rosa cipria, bruciato e oro. Rimanendo sulle tonalità tono su tono abbiamo il colore rosso, argento, smeraldo e fucsia. Come abbiamo appena visto, le colorazioni disponibili per questo filato sono davvero numerose. Inoltre la particolarità della paillette tono su tono oppure a contrasto vi permetterà di abbinare questo filato a davvero numerosi filati differenti. Questo vi permetterà di avere un capo davvero personalizzato, oltre che luminoso ed elegante. Potrete infatti anche realizzare delle stole, ad esempio, che potranno essere utilizzate anche per delle cerimonie o per degli eventi serali, dove quel tocco di scintillio e di eleganza data dalla paillette lascerà il segno. Ed infine vi ricordiamo di utilizzare il Pazzi Naked sempre binato con un altro filato. Questo renderà sicuramente più facile la sua lavorazione, ma lo renderà anche confortevole al contatto con la pelle. Arrivati a questo punto non mi rimane che salutarvi, ricordarvi di attivare la campanella e di iscrivervi al nostro canale YouTube, ma anche di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meio di Maglia, TikTok, Instagram, Pinterest e il nostro blog. Al prossimo Tessilan News! Al prossimo Tessilan News!